Il Campobasso 2017-2018 inizia oggi il ritiro nella sede di Serino, località a metà strada fra Salerno ed Avellino. La società ha ufficializzato nove giocatori, due portieri fuori quota, due difensori entrambi senior e ben cinque centrocampisti di cui tre under e due senior. Gli ultimi giocatori annunciati in ordine di tempo sono Fabio Sorrentino, centrocampista classe 99 dalla Berretti della Juve Stabia con cui ha trovato molto spazio agli ordini del tecnico Mimmo Panico, il difensore Matteo Spinelli, classe 95 cresciuto nella Fiorentina lo scorso anno alla Colligiana e Nicola Leone, centrocampista classe 92 proveniente dal Gladiator. All'appello del tecnico Foglia Manzillo e del suo staff mancano ancora gli attaccanti, reparto che la società si è riservata di attrezzare. Sono papabili i nomi per l'attacco di Iadaresta e Gambino ma molti altri sono sulla lista della dirigenza campobassana compreso quello di Alessio Palmisano che lo scorso anno è stato allenato da Foglia Manzillo al Nardò. Anche nel reparto offensivo il tecnico rosso blu ceglierà di collocare uno dei quattro fuori quota sanciti dalle norme federali. Foglia Manzillo ha chiesto una rosa di 22 giocatori, nove sono stati già ingaggiati. Possiamo affermare che il lavoro all'unisono di dirigenza e staff tecnico nell'allestimento della rosa è compiuto per il 40%. Il serbatoio da cui il Campobasso sta attingendo a piene mani in tema di under è quello della Juve Stabia di cui è dirigente anche Alberico Turi che è un rappresentante della famiglia De Lucia, nuova proprietaria della società rosso blu. Dalla società di Castellamare di Stabia si aggregherà anche il classe 98 Andrea Elefante che verrà valutato da Foglia Manzillo e dai suoi collaboratori. A Serino si lavorerà sprombattuto a ritmo di due sedute al giorno. La prima intorno alle 9 del mattino seguirà il pranzo ed un riposo pomeridiano. Il gruppo di giocatori si rimetterà all'opera intorno alle 17 per poi concludere il secondo allenamento dopo circa un'ora e mezza. Domani si avrà l'ufficialità anche della figura di direttore sportivo del Campobasso. Un posto per tre nomi, cioè quelli che stanno circolando da tempo. Pavarese, Lo Giudice e Bifulco. Sembra che Pavarese possa essere in pole position per il ruolo di DS Rosso Blu ma ogni dubbio verrà sciolto tra qualche ora al vertice della società. Quindi nel ruolo di presidente comparirà uno dei due fratelli Marco oppure Andrea De Lucia. Ad Agnone si sta compiendo l'opera lenta ma che sta dando i suoi frutti di ricoinvolgimento della dirigenza uscente nel nuovo progetto. Tra i membri che potrebbero tornare in sella ci sono Nicola Bucci e l'ex presidente Franco Marco Vecchio. Contemporaneamente i quattro personaggi incaricati dal sindaco del mandato esplorativo, Sica, Paola Antonio, Marinelli e De Vita, si stanno occupando anche dell'aspetto strettamente tecnico. L'allenatore contattato e dal quale si aspetta una risposta è Candido Bucci, una soluzione interna. Il vice potrebbe essere Antonio Orlando. Per l'ex capitano si vocifera un ruolo molto vicino a quello di allenatore. Smentite stamane a telefono dallo stesso Sica. Le voci che vogliono l'ex Termoli Casu sulla panchina dell'Olimpia. Fernando Sica continuerà anche ad occuparsi del settore giovanile Granata. Un ruolo che questi sta ricoprendo davvero da tempo in memore in Alto Molise. A proposito di giovani, pullulano ad Agnone i raduni per valutare tanti fuori quota che possono fare al caso della prossima Olimpia agnonese. Tra questi anche tanti classe 99. Quest'anno un elemento dovrà essere di questo anno in particolare. Il ritiro verrà svolto ad Agnone a partire dall'inizio del mese di agosto. Ancora una settimana dunque di intenso lavoro per sistemare tutte le caselle sia a livello sportivo che societario. Quanto al primo aspetto la dirigenza costruirà intorno al nome dell'indomito capitano Litterio la prossima squadra. Sul fronte societario c'è da determinare anche la figura del presidente. A questo proposito non si può escludere che possa essere uno dei quattro membri prima citati incaricati dal sindaco Marco Vecchio di ricostruire dalle fondamenta la società dell'Olimpia agnonese.